con mister Claudio De Luca verso Bitonto team Altamura il Bitonto ospita una tua ex formazione che avversario sarà la team Altamura per il Bitonto e come ci arriva la tua squadra da primi in classifica dopo questa settimana di lavoro? Un avversario troviamo un avversario forte che ha dimostrato in questi anni di allestire sempre rose competitive per il campionato serie D girone H anche perché tutte le squadre sono costrette secondo me se vuoi partecipare a questo campionato ad allestire rose importanti qualsiasi sia l'obiettivo quindi troviamo una squadra forte fisica ben allenata con una società che conosce bene questo girone noi dobbiamo essere bravi a superare le prestazioni che abbiamo fatto nelle gare precedenti per cercare di battere un avversario duro quindi come abbiamo siamo stati bravi e non ci ha mai regalato niente nessuno a portare punti importanti a casa nelle scorse partite dobbiamo fare la stessa cosa anzi migliorare le prestazioni precedenti. È il momento mister di pigiare sull'acceleratore di dare ulteriore continuità dei risultati ai già buoni risultati finora conseguiti è il momento di dare un impulso al campionato? Sì noi dobbiamo tenere sempre il piede sull'acceleratore dobbiamo ragionare partita per partita dare continuità a quello che stiamo facendo abbiamo un'autostima che si sta alzando di partita in partita perché ci sono partite poi che aiutano ad alzare l'autostima le vittorie aiutano ad alzare l'autostima e quindi è importante continuare sulla scia di quello che stiamo facendo. Ci saranno novità di formazione in vista anche alla luce anche dei problemini fisici riscontrati domenica scorsa in Manzo e Palumbo. Lo valuteremo questo nelle prossime ore ma sono quasi tutti quanti sulla via del recupero quindi nelle prossime ore con lo staff medico valuteremo tutte la condizione generale dei ragazzi e della squadra per poi fare scelte importanti come abbiamo fatto anche nelle precedenti partite. Con Mirko Guadalupi verso la sfida Bitonto team Altamura. Mirko sfida importante per il Bitonto per mantenere la vetta una sfida anche particolare per te visto che sei il grande ex di questa gara. Sì è una sfida importante come del resto sono state le altre come saranno le prossime siamo in un buon momento vogliamo dare continuità domani affronteremo una grande squadra secondo me la cui classifica non rispecchia al momento i valori della squadra però per me è una partita diversa dalle altre lo sapete sono stato lì tre anni il capitano però domani quando l'arbitro fischia poi tutto sarà diverso. Cosa ci da temere di questa team Altamura che fa bene fuori casa qualche difficoltà in più tra le muore amiche? Sì è detto bene una squadra che fa bene fuori casa ha vinto a Cerignola ha fatto pari a Caserta quindi una squadra che secondo me fuori casa dal meglio di se stesse in casa ha fatto un po' di difficoltà forse perché deve fare la partita però ogni partita ha una storia a sé domani sicuramente sia noi che loro cercheremo di fare una grande partita. Il sei partito titolare ora qualche partita invece da subentrato il valore della rossa importante del Bitonto non è un problema se si gioca titolare o si parte dalla panchia? Sì ovviamente lo sapevo lo sapevamo perché questa è una rossa fatta da grandi giocatori però abbiamo sposato tutto sposato tutto un progetto importante quindi va bene così l'importanza è farsi trovare pronti quando il mister ci chiama in causa no 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 Grazie a tutti